Buongiorno e benvenuti all'edicola di oggi 25 agosto 2023. 24 ore dopo lo schianto del jet di Prigozini, il mercenario di Putin, il presidente russo afferma che è stato un uomo talentuoso ma che ha compiuto numerosi errori. E poi ancora la premier Giorgia Meloni nomina sua sorella Arianna capo della segreteria politica del partito Fratelli d'Italia, chiaramente seguito da numerose polemiche. Queste sono le principali notizie di oggi riportate sui quotidiani ma come sempre iniziamo la nostra rassegna con la lettura dei quotidiani e partiamo dal Corriere della Sera che titola la prima pagina Prigozin arriva l'addio di Putin, focus sulla guerra. Il corpo del capo dei mercenari sarebbe stato identificato. Zelensky noi non c'entriamo, si sa chi è stato. Il leader russo rompe il silenzio, aveva talento. Ha commesso errori, gli usa bomba sull'aereo. Leggiamo. Morte di Prigozin, interviene Putin. Il leader del Cremlino rende gli onori al capo della Wagner. Aveva talento, ha ottenuto anche risultati ma ricorda anche che ha commesso degli errori. Il corpo di Prigozin sarebbe stato identificato. Sulla dinamica dell'attentato che ha provocato l'abbattimento del jet sul quale viaggiava il capo della Wagner arriva la versione degli Stati Uniti. C'era una bomba sul velivolo. Anche il presidente ucraino Zelensky commenta l'attentato. Noi non c'entriamo ma si sa chi è stato il mandante. Ancora chi era a bordo con lui, il vice e le altre vittime, la Wagner decapitata. L'analista Tatiana Stanovaia, un messaggio di forza per l'elite di Mosca. E i misteri, le domande perché lo chef è andato nella tana del nemico. Non solo ricorsi ma chi difende gli insegnanti dalle famiglie degli studenti. Stavolta, leggiamo, si annuncia da Tivoli il nuovo caso di bocciatura di un'alunna di prima media con sei insufficienze che, su ricorso dei genitori, il Tar ha dichiarato illegittima. Per difetto di motivazione nei nostri regolamenti scolastici, perché si venga bocciati alla scuola dell'obbligo, non bastano i voti. Debbono ricorrere un numero di circostanze di sottile accertamento e di ancor più sottile interpretazione, che al paragone la casistica gesuita della controriforma è una barzelletta e che quindi presumibilmente diventerà una promozione. Adesso, come sempre, passiamo alla lettura della Repubblica. Le lacrime di Putin. A 24 ore dallo schianto del jet di Prigozin, il presidente russo rompe il silenzio. Uomo di talento che ha fatto seri errori. Secondo fonti di intelligence USA, la causa è stata una esplosione a bordo. L'esercito russo ha iniziato a spartirsi la Wagner. Atlanta, 13 i capi di imputazione, poi rilasciato. Trump arrestato e foto segnaletica, prima volta per un ex presidente USA. Donald Trump è stato arrestato per la quarta volta nell'ambito dell'inchiesta sul tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 in Georgia. L'ex presidente si è consegnato nel carcere di Fulton, gli è stata scattata la foto segnaletica, è la prima volta per un ex capo dell'esecutivo ed è stato rilasciato dietro una cauzione di 200 mila dollari. È un giorno triste per l'America, ha dichiarato. Ancora, cultura, se il mio Israele riscopre la vulnerabilità. Una delle caratteristiche del popolo di Israele fin dai suoi inizi è stata la propensione allo slancio. Già il primo comando divino ad Abramo, battene dal tuo paese, racchiude l'idea di rinnovamento, di pulsione, di imprenditorialità, di invenzione, di creatività. E ancora di spalla, politica, affari di famiglia. Meloni si blinda, le redini di Fratelli d'Italia, alla sorella Arianna. Il retroscena, l'ipoteca sulle europee. La masseria Beneficio nasconde alle sue spalle una cava. A metà mattina, dopo settimane di silenzio, i rumori del cantiere diventano fastidiosissimi. E' il segnale. Adesso passiamo alla lettura della stampa. In primo piano, gli USA, il comandante della Wagner, ucciso da una bomba. Il presidente russo, uomo di talento che ha commesso errori. Prigozin, il requiem di Putin. La fine tregua di Vlad. Le sopracciglia grottate e le labbra strette di Putin hanno tolto dall'imbarazzo la nomenclatura rossa. Wagner si ritira in Africa. Un esercito, soprattutto di mercenari, non è cosa semplice. E' fatto di uomini, materiali, dottrine e battaglie. Meloni promuove la sorella. Chaos fratelli d'Italia. Scatta la faida nella compagine della Premier. Donzelli, la leader, non si distrae per chi cerca strapuntini. Arianna nominata capo della segreteria politica del partito. I ribelli chiedono un congresso. Leggiamo. Casa bottega, masseria e palazzo Chigi. Giorgia Meloni si circonda della famiglia. Al governo e al partito. La sorella Arianna diventa capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia. L'idea è nata dalle preoccupazioni della Premier di non controllare più la sua creatura. Il commento, il governo familiare, che sa di monarchia. C'erano una volta i dirigenti determinati dai congressi. Poi vennero i cerchi magici, i gigli magici, le geometrie variabili dei grillismo. Ora Giorgia Meloni ha nominato sua sorella Arianna responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Possiamo moderare lo stupore. L'analisi. Le pietre che piovono nell'estate della destra. Nei dieci mesi seguiti dall'insegnamento del governo abbiamo visto all'opera una modalità comunicativa istituzionale fatta di affermazioni apolitiche. Enormità storiche, ritrattazioni, lapsus, smentite, proteste di strumentalizzazione e accuse di decontestualizzazione. E poi ancora le idee. Il politicamente corretto tra generali e clandestini. Da sempre le parole dicono molto più di quanto le parole dicano. E non è necessario evocare per sapere che la lingua costituzionale e la realtà ne dà sostanza e corpo. Le controverse sul politicamente corretto, insomma, sono più serie di quanto possano apparire. E poi focus sull'inchiesta, i giovani e le nozze difficili, sposi sì, ma solo domani. C'è un momento del matrimonio in cui il celebrante pronuncia una frase che recita. Se qualcuno è contrario a questa unione, parli ora o taccia per sempre. Generalmente esegue un silenzio eloquente. Non oggi, oggi a parlare sono i ventenni e dicono no ad abito bianco e a sbocching e sì a tailleux e spezzato. Storia, segre, morto per dieci minuti, che belli i miei necrologi. E poi di spalla abbiamo focus sulla giustizia, Ostellari e gli stupratori. Castrazioni chimica nella tana del branco coi piccoli giustizieri. Leggiamo. Andrea Ostellari, sottosegretario leghista alla giustizia, sposa la linea del partito sugli stupri. Proporremo la castrazione chimica. A Palermo, nel quartiere del branco, sono finite nel mirino anche le loro famiglie. Migranti. L'Unione Europea respinge l'accusa, vi stiamo aiutando. La Commissione Europea è molto preoccupata per l'aumento degli arrivi nel Mediterraneo centrale, in particolare in Italia, e non potrebbe essere diversamente. Il caso Teorema Lolo Brigida, il povero mangia meglio. Non è in forma, ha dichiarato una collaboratrice del ministro Lolo Brigida, ai cronisti dopo l'intervento al meeting di Rimini del cognato di Giorgio Meloni. Pare che non avesse voglia di rispondere alle domande. Adesso passiamo alla lettura di avvenire, la stampa di ispirazione cattolica. In prima pagina, il disordine mondiale. Una bomba sull'aereo del Wagner. La guerra in Europa va avanti. Nel giorno dell'indipendenza, Blitz porta la bandiera ucraina in Crimea. Fibrillazioni dopo la morte di Prigodin, Putin esprime il cordoglio. Ma Kiev e Washington lo ritengono responsabile. Sfida all'Occidente, ora rappresentiamo il 36% del PIL globale. Meeting 2023, l'iniziativa di 14 intellettuali cattolici e politica. Adesso c'è anche un piano B. Si può ricostruire l'Italia. Leggiamo. Sì, è un progetto politico. Dopo un'ora e mezza di discussione, Mauro Magatti, sociologo dell'Università Cattolica, chiama il piano B con il suo nome. Scelta doverosa per un progetto che si prefigge di riscrivere il vocabolario economico, sociale e politico del paese. Accusato di brogli, Trump si consegna processo subito. E' ancora il focus sulle migrazioni, i casi di Modica e di Palmanova, mentre le altre strutture sono al collasso. Tra nuovi hotspot e proteste, l'accoglienza divide i territori. Il sisma nel centro Italia, ricostruzione post-terremoto. La Premier promette rapidità. Nel giorno del ricordo delle vittime del sisma di sette anni fa nell'Appennino centrale, la Presidente del Consiglio amette i ritardi e chiede un cambio di passo. C'è quello che la Premier Meloni chiama l'obbligo morale della ricostruzione, che impone un cambio di passo. E adesso passiamo alla lettura delle sole 24 ore. Il quotidiano di Confindustria, Anvidia, da record nei ricavi e in borsa, con i chip dell'intelligenza artificiale. Tecnologia in borsa, una nuova era, è cominciata per computer e aziende. E' stato il commento dell'Ad. I dati straordinari hanno spinto Wall Street al rialzo fino a metà seduta. Giovani donne sud, incentivi in scadenza verso la proroga. Focus sul lavoro. Leggiamo. In vista di un autunno caldo e con le prospettive economiche incerte, il Governo è pronto a sostenere l'occupazione confermando, nella prossima legge di bilancio, un pacchetto di incentivi assunzionali, in primis su giovani e donne, in scadenza a fine anno. In primis si punta a rinnovare l'incentivo per assumere giovani sotto i 36 anni, nonché lo sgravio al 100%, anziché il precedente 50%, fino a 8.000 euro l'anno, per 12 mesi, per chi assume a tempo determinato donne svantaggiate. A questi si aggiungono l'esonero parziale per le imprese delle regioni del sud, la decostruzione per i giovani imprenditori agricoli e anche il bonus net. Adesso passiamo alla stampa locale con l'edicola del sud. Il dossier confartigianato lancia l'allarme. In Puglia il 20% dei lavoratori rischia di perdere il posto. L'intelligenza artificiale farà altri disoccupati. In Puglia circa il 20% dei lavoratori, cioè uno su cinque, rischia di perdere il posto a causa dell'intelligenza artificiale, che minaccia di affermarsi in maniera sempre più invasiva nel mercato del lavoro. A lanciare l'allarme, l'allarme è confartigianato in un dossier. La Puglia è esposta al rischio anche perché nel 2022 tantissime imprese hanno effettuato investimenti in settore come quello dei big data. Meno pericoli invece per la Basilicata. Buffera dopo l'invito alla piazza, Vannacci fa dietro font il caso per il militare, niente dibattito, acceglie Messapica. La violenza nel capoluogo, ferita a colpi di pistola, dal padre pregiudicato per difendere il fratello. Bulli fuori controllo a brindisi, baby gand scatenate, doppia aggressione nel giro di poche ore. Una giornata da bolino rosso, riecco il caldo africano e l'afa fa crollare la produzione di latte. Bari sì alle tariffe della tassa di soggiorno e poi ci spostiamo a Barletta, a troppi cari i biglietti per la disfida. Borgo Mezzanone, il ghetto e la bonifica dei terreni. Adesso passiamo alla lettura del resto del Carlino che titola la prima pagina Inflazione, 13 miliardi per le pensioni. Manovra in salita, caccia alle risorse per adeguare gli assegni. Ma la Premier vuole anche un meccanismo per garantire i giovani. Fratelli d'Italia, Meloni chiama la sorella Rianna a guidare la segreteria politica. Intervista ad Emiliano Bene Schlein, ma ha accolti gli iscritti del PD. E poi una fotonotizia in pancia. Il gelo di Putin dopo la morte di Prigozhin ha fatto errori, i dubbi sulla sorte della Wagner e il futuro della Russia. I demoni. Di spalla, cutro, la spiaggia della strage. Turisti e dolore in riva al mare. Leggiamo. A sei mesi dalla tragedia che si portò via 94 migranti siamo andati a visitare la spiaggia di Steccato di Cutro in Calabria. La memoria delle vittime tiene lontani dal mare i residenti. Non possiamo fare il bagno lì, ma tra i pezzi del relitto e la croce, sulla sabbia, spuntano i turisti. Dalla città Bologna si punta alla revisione. La difesa di Nanni, delitto di Badolo, super testimone non affidabile. Rioveggio, travolta da un'auto, donna morta, monta la rabbia. Strada pericolosa. Adesso passiamo alla lettura dell'eco di Bergamo. Sant'Alessandro nel segno di arte e preghiera. E poi via il reddito, lavoro al 51%. Arriva la card, 4.000 esclusi. In Bergamasca, 1 su 2, ha avuto un contratto. Carta spesa, i fondi non bastano. Passiamo alla provincia. Villa Olmo. Alberi pericolosi, 10 devono essere tagliati. Il comune di Como chiede il permesso di intervenire nel parco storico. Un piede incastrato nella scaletta. Appiano annega nella piscina di casa. Leggiamo. Un pensionato è annegato nella piscina di casa. Tragica fine per Carlo Fioravanti, che il prossimo 26 ottobre avrebbe compiuto 80 anni. Ieri, intorno alle 10.30, è stato trovato senza vita nella piscina della sua abitazione. Una caduta accidentale è l'ipotesi più accreditata all'origine dell'incidente che risalirebbe all'altra sera. Nessuno si è accorto della disgrazia fino a ieri mattina. A scoprire l'uomo, ormai esamine, è stata la sorella Maria, che ieri mattina, come sua abitudine, è passata a casa del fratello per dargli una mano nel disbrigo di alcune incombenze domestiche. La provincia di Sondrio titola la prima pagina Amiche trascinate dal torrente morte per un gesto d'amore. Sono stati recuperati il Val Malenco, i corpi delle due lecchesi, inghiottite mercoledì dal Fellaria. Anziano scomparso, speranze finite, il corpo recuperato ieri nell'Adda. Passiamo adesso alla provincia di Lecco. Il dolore di Pescate e Cernusco, morte per un gesto d'amore. Ritrovati i corpi di Rosi Corallo e Veronica Malini, inghiottite dal torrente Fellaria. Incordata sulla cresta, Ongania precipita per cento metri ed è morto. Passiamo adesso alla Gazzetta del Mezzogiorno. Bye bye Puglia, finite le vacanze per Giorgia Meloni. I poveri mangiano meglio dei ricchi. Buffera su Lolo Brigida. L'intervista all'esponente di governo ha visitato anche Campi e Lecce. Il ministro Bernini rilancia il polo della ricerca a Brindisi. Il territorio cresce se si investe in formazione. Le idee, intelligenza artificiale, no, la vera emergenza e la schiavitù social. E poi il numero unico dell'emergenza è attivo in Europa e nel centro-nord Italia. Il pasticcio del 112 Pugliese. Spesi milioni ma non funziona. Doveva partire nel 2020 il giallo delle sedi inagibili. Perdersi nella quiete dei boschi, le nostre foreste più belle. Adesso passiamo alla lettura del mattino. Sostegno a chi cerca lavoro. Intervista al ministro Calderone. Ecco la strategia per superare gli effetti negativi del reddito. Oggi in arrivo altri 32.000 sms dell'Inps di disdetta del sussidio. Il record in Campania e Sicilia. Orrore a Caivano. Stupro di gruppo su due ragazzine. Parco Verde hanno agito in sei. Un minorenne. Un minorenne, sì. Le 14 anni condotte con l'inganno in un capannone. Adesso passiamo al messaggero Prigozin. L'ipotesi bomba piazzata da un pilota. L'uomo, un ex federalissimo, non si sarebbe imbarcato. E ancora la decisione della Premier sul futuro di Fratelli d'Italia. Meloni e il partito verso il voto europeo guidano la sorella Arianna e Fazzolari. Si cercano fondi per famiglie quota 103. Manovra in arrivo tagli per il bonus e mini ritocchi alle pensioni più alte. Reddito stop 32.000 assegni secondo invio della comunicazione dell'Inps con l'indicazione del nuovo sostegno di formazione. L'intervista calderone. L'uscita dal sussidio sarà morbida. Aiuti a chi cerca occupazione. E concludiamo con la lettura del quotidiano del Sud. Il quotidiano diretto da Roberto Napoletano. Manovra bonus per famiglie e imprese. Investimenti l'Italia tratta con l'Unione Europea. Il governo accelera sulla legge di stabilità. E ancora manovra infrastrutture e fondo con il 4% del PIL. Gli scenari dopo la morte misteriosa di Prigozin, Putin e Wagner. Due dilemmi con brutti effetti collaterali. E con quest'ultima notizia si chiude la rassegna di oggi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.